Ben trovati dal TG della mobilità, settimana di chiusura della campagna elettorale. I seggi per il voto saranno aperti domenica dalle 7 alle 23. Molti gli eventi che comporteranno limitazione alla viabilità e chiusura delle strade. Domani e venerdì pomeriggio a Piazza del Popolo due distinti comizi di vieti di sosta sulle rampe di Viale Gabriele d'Annunzio che portano sulla piazza. Per entrambi gli eventi sono possibili rallentamenti nell'area circostante. Sempre dopo domani dalle 18 alle 20 manifestazione davanti alla Basilica di San Giovanni annunciata la partecipazione di 6.000 persone. Sciopero internazionale sul clima venerdì dalle 9 alle 14. Un corteo da Piazza della Repubblica raggiungerà i fori imperiali, possibili chiusure deviazioni per 27 linee di bus e tutti gli aggiornamenti sugli eventi della settimana nel sito romamobilità.it. È tutto per questo appuntamento con il Tg della Mobilità.